oggi parliamo della stampante per alimenti led di della primera è una stampante che stampa direttamente sugli alimenti quindi in questo caso stiamo stampando delle gallette stamperemo delle galle delle gallette glassare ad altissima risoluzione il carrello rotante permette un lavoro automatizzato stampa in pochissimi secondi può fare dei fondi pienissimi in altissima risoluzione con dei colori brillanti come vedete lo prende da solo il carosello gira e viene effettuata la stampa può essere effettuata anche una stampa differente per ogni tipo di di dolce di galletta come in questo caso stiamo facendo delle stampe totalmente differente stampa direttamente sugli alimenti con degli inchiostri certificati quindi assolutamente sicuri le stampe possono essere effettuati su alimenti con un diametro massimo di 89 mm in questo caso stiamo utilizzando il carosello ma può essere anche alimentata con il singolo biscotto il singolo dolce anche a mano direttamente da linguetta senza il carosello guardate la perfezione delle stampe la risoluzione è molto veloce quindi in pochi secondi riesce a stampare 12 in questo caso stiamo utilizzando insomma delle gallette del diametro di massimo di 89 mm guardate la risoluzione di stampa e comunque non è una pellicola ma è una stampa direttamente sul biscotto quindi possiamo stampare immagini diverse il software è estremamente semplice da utilizzare può essere anche utilizzato oltre avere quelli suoi a corretto ma può essere utilizzato qualsiasi software semplice e di immediata comprensione una stampante rivoluzionaria perché gli inchiostri certificati ci permettono di avere un risultato che dura nel tempo estremamente professionale su tanti tipologie di dolci se vi interessa la soluzione potete contattarci i nostri riferimenti